Ecco una ricetta dei ricordi. La prima volta l'ho preparata per il mio papà ed era piaciuta tantissimo. Facciamola insieme. Versiamo le patate sbucciate nell'acqua. Copriamo e le facciamo bollire fin quando non saranno tenere. Poi le andiamo a scolare e le lasciamo intiepidire. Schiacciamo le patate. Questa procedura si può fare anche senza schiacciapatate ma con la forchetta. Basta schiacciare con i rebbi della forchetta, senza esagerare altrimenti diventa troppo colloso. Sale, parmigiano e adesso mescoliamo. Mescoliamo fino ad amalgamare completamente il composto. Questa è una ricetta dei ricordi. La voglio dedicare al mio papà che non c'è più. Voglio ricordarti bello e giovane come in foto. Prendiamo un sac a poche con la punta a stella grande e adesso lo riempiamo. Se la bustina del sac a poche è piccola lo possiamo riempire due volte. Con questa dose otterremo 6 pezzi grandi. 100 g di patate a zeppola e 20 di formaggio. Stringiamo ed iniziamo a fare le zeppole. Realizziamo due cerchi concentrici uno sopra l'altro con il foro non troppo stretto in modo tale a non far scendere il formaggio. Una volta pronte le set zeppole cuociamo in forno a 15 minuti a 200 gradi. Uniamo l'erba cipollina al formaggio e mescoliamo. Io ho utilizzato la robbiola ma potete utilizzare tranquillamente una certosa o un altro formaggio cremoso. Ed adesso lo mettiamo nel sac a poche. Stringiamo e facciamo scendere in fondo. Stringiamo anche qui ed andremo a farcire le zeppole ancora tiepide. Ci aiutiamo con una spatola a togliere le zeppole dalla placca e le mettiamo su un piattino. E poi realizziamo due giri di formaggio. Ed infine andiamo ad aggiungere un'oliva nera. E sono pronte per essere servite subito. E provatele che sono speciali e alla prossima ricetta!